Musica Qualche video fa vi parlai di un alimentatore, ovvero un Delta, anzi non ve ne parlai neanche perché non l'avevo proprio considerato Mi sembrava proprio all'aspetto, quei classici alimentatori iper economici presenti neanche nei preassemblati, proprio qualcosa che usi solo provvisoriamente sperando che non si rompa Pensandoci su Delta non è proprio una brutta marca, sono rimasto un attimo interdetto dal brutto riscontro che ho avuto da quell'alimentatore Non avevo notato in effetti che aveva un gran problema, ovvero che un condensatore, quello che penso che sia il secondario, scusate l'ignoranza, ha perso acido Il condensatore in questione è questo qui, come potete vedere qua c'è all'accendo di acido, c'era già un po' che sgorgava, già ossidato, meglio prevenire che curare È un condensatore di una marca stranissima, della PET, da 16V a 1000 pico farad Il condensatore si trovava precisamente qui, ho anche un'immagine tra l'altro Non appena l'ho toccato le saldature sono subito andate via e si è subito staccato Essendo che è polarizzato dovremmo andare a mettere il condensatore sostitutivo col polo negativo qua a sinistra, tra l'altro c'è anche il simbolo sul PCB Dando un'occhiata più particolare a questo alimentatore si può vedere che in effetti non è proprio fatto con tantissimo criterio Cioè sì qua abbiamo un condensatore spiatto subito all'entrata della 220 Abbiamo anche il selettore on e off che è una cosa che non è presente in tutti gli alimentatori Ed è abbastanza imbarazzante che non ci siano alcuni È fatto tutto un po' storto, cioè guardate tipo sto condensatore che... vabbè non ho parole vabbè E qua il trasformatore, il trasformatore si vede proprio che è di fascia abbastanza bassa Non avevo mai controllato l'etichetta perché appunto l'avevo proprio considerato una merdaccia sto alimentatore Considerando anche che c'ha il 20 pin più il 4 per adattare le pc moderni Cioè moderni da tipo 20 anni ma vabbè E ha giusto 2-3 cavi Per esempio una cosa positiva è il ponte a diodi è bello grande, cioè non mi sembra tarocco Per esempio qua si può vedere sul PCB che avevano predisposto anche la circuiteria per fare il ponte a diodi Usando i diodi singoli senza usare per forza il ponte E apprezzo il fatto che abbiano usato comunque un ponte a diodi vero e proprio I condensatori al primario sono dei Samxon che non sono la cinesata peggiore del mondo Però i condensatori quali secondario si peccano davvero molto di qualità Più che altro vorrei provvedere a sistemare subito questo problema qua Il condensatore che andrò a usare per sostituirlo In effetti non so se andrà bene, quindi spero che andrà bene È un Jamicon da ben 4700 picofarad ed è per questo che non so se andrà bene Visto che attualmente c'è il sallatore e mi è morto male Spero di riuscire a incastrarlo e poi attaccarlo con tipo un po' di vinavil in modo molto brusco Inserire il condensatore là, perfetto Comunque il negativo eventualmente lo posso girare il filo e attaccarlo direttamente a questo rivestimento Sì, si intravede là dove c'è anche un po' di scotch Sì, ho messo anche un po' di scotch, non so se andrà bene, se si scalderà troppo Comunque adesso direi che è arrivato il momento di testarlo Visto che non voglio bruciare nulla di quello che ho di scheda eccetera Pensavo di accenderlo proprio senza niente facendo un ponte tra un filo verde e un filo della terra Manca una vite Oh, ne mancano due La cosa che mi rende più sicuro è il fatto che comunque se sono condensatori al secondario Cioè se quello che ho cambiato un connessatore al secondario Dovrebbe condurre solo il voltaggio DC a 12 o 5 o 3,3 volt Il filo è collegato Ok Funziona Perfetto, devo ancora testare i voltaggi Ok, la 12 volt c'è Anche la 5 è leggermente sopra, ci sta perché non ha nessun carico E anche la 3, e anche la 3 è perfetta Si è rivelato funzionare, o almeno così mi è sembrato Sembrerebbe che l'alimentatore funzioni Non so se quel condensatore era correlato al voltaggio di una delle rail O se ha qualche altra funzione Comunque direi che posso concludere qui È stato molto breve come video Ma è la prima volta che cambia un condensatore Cioè in modo più brutto possibile, senza neanche le saldature Ma vabbè, lasciamo stare Detto questo vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti